Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri ad Ostia Ponente. I militari hanno sequestrato due pistole con le relative munizioni e due reperti archeologici di epoca etrusca romana. Le armi, un revolver Colt ed una semi-automatica Beretta, erano state avvolte in strofinacci di tela ed occultate nel sottoscala di un condominio in piazza Gasparri, pronte all'uso con tre caricatori ed un centinaio di proiettili. Nello stesso condominio, nascoste in una nicchia del vano ascensore, sono state scoperte alcune dosi di cocaina e un bilancino di precisione. Presumibilmente i pusher usano gli ascensori per far arrivare la droga all'acquirente dalle mansarde al piano terra. Per quanto riguarda i reperti archeologici invece si tratta di un mezzo busto e un'iscrizione marmorea, abilmente nascosti in un'auto di proprietà di un noto pregiudicato parcheggiata nel piano interrato di una palazzina di via Mario Ruta. Inoltre è stato arrestato un 25enne di acilia trovato in possesso di 20 grammi di sostanza stupefacente. In totale i carabinieri hanno controllato 105 veicoli e hanno identificato oltre 200 persone.